Oggi siamo qui per riparare lo spagnolo Ciao, io mi chiamo Andrea, sei tu? Così? Comunque oggi siamo qui con i miei cuginetti Andrea, Marina e Shaki per insegnare lo spagnolo ai bambini Nella lezione di oggi, cari ragazzi miei, impareremo i numeri, pronti? Si! Si parte! Si parte, si parte! Uno, due, tre, balla conmigo, quante signe sei, tutto il mondo, siamo realizzati noi! Yeah! Benissimo, bambini spero che la canzone vi abbia detto per imparare i numeri Si! Si! Questa cosa si di più! Si! Adesso passiamo a vedere un piccolo dialogo in cui vi presentate e dite quanti anni avete Come ti chiami io Andrea? Come ti chiami io Andrea? Io Marina! Quanti anni hai? Tengo 8 anni! Ho 8 anni! E tu? Io tengo 9 anni! Benissimo, spero che questo video vi sia stato utile ragazzi Presto ne faremo tantissimi altri per imparare a parlare bene lo spagnolo Così se nemmo tutti quanti in Spagna, possiamo parlare con tutti quanti E ricordate che cagnolino in spagnolo si dice perro Questo è un? Perro! 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 Quindi, grazie per aver visto questo video ragazzi A presto! Perro! 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 Perro!